Ale Musella, allora noi abbiamo deciso di introdurre la nostra conversazione con questo pezzo cantato anche da Mina e oltre che da Alberto Sordi, Breve Amore dal film Fumo di Londra del 66. Che c'entra Londra in tutto questo? Ah, allora vuoi fare un po'… Allora, vabbè, oggi parliamo… Quando è guerra è guerra per tutti. È giusto. Allora, grazie per l'introduzione. Oggi parliamo ovviamente di fotografia e di immagini, anche perché quando parliamo di arte, spesso e volentieri, soprattutto in Italia, il concetto fotografico fa ancora fatica ad essere digerito come artistico, no? Soprattutto quando poi si parla della vendita, perché, come abbiamo sempre detto, non hai mai la certezza nel mondo digitale se il pezzo è veramente unico, se hai delle esclusive, se sei corretto, se non sei corretto, perché fondamentalmente, come abbiamo sempre ripetuto, vendi l'attimo, quando si parla anche del Pulitzer, piuttosto che, no? Che non è la qualità dell'immagine, ma è l'attimo rubato. In alcuni casi sono degli scatti unici, perché magari alcuni fotografi del passato hanno avuto la possibilità di fotografare personaggi importanti che difficilmente sono ritraibili, perché comunque sono molto riservati, come Andy Warhol, come foto di personaggi che non amavano essere appunto fotografati. Oppure ci sono le foto d'arte, per cui Ray May, per esempio, piuttosto che lo Newton, che si sono inventati un modo di fotografare, che ha fatto storia, che poi magari molti hanno invitato, però come abbiamo sempre amato dire, come diceva l'ingegno di Picasso, se una cosa è fatta bene, perché la devi imitare, se sei un genio puoi anche copiarla, ok? Questo è il suo punto di partenza. In effetti, il modo, è sempre il discorso, che è anche legato al mondo dell'arte, ma con la maiuscola, il discorso di imitare qualcuno, o comunque di prendere spunto, non deve essere per forza sminuente, no? Perché oggi, bene o male, si è inventato quasi tutto, per cui difficilmente riesci a trovare degli spunti veramente nuovi, ok? Poi, vabbè, non parlo dell'intelligenza artificiale, perché io la trovo agghiacciante, perché a quel punto l'essere umano e la creatività proprio vanno in cantina, perché fa tutto in computer, per cui quando mi parlano di arte con l'intelligenza artificiale, rabbrividisco. Ma questo, vabbè, ne parleremo magari nelle prossime puntate. Allora, mi parlavi di Londra. Londra perché nel panorama internazionale ci sono invece delle piattaforme che di solito appunto vengono create da collezionisti o personaggi che fanno una selezione particolare di immagini e che in maniera estremamente professionale poi dopo le propongono ai collezionisti o anche soltanto agli ammiratori o che possono essere persone comunque che hanno una buona disponibilità, ma anche semplicemente possono diventare un comprimento d'arredo. Perché? Perché sono immagini che non per forza vengono vendute a migliaia di euro perché sono un'opera d'arte. Sono belle immagini di personaggi comunque, di fotografi o anche di artisti importanti che però cosa fanno? Scegliono alcune immagini, alcune foto o meglio vengono selezionate dalle persone che sono preposte a farlo per conto di questo personaggio o della società che apre queste piattaforme. Per cui sotto questo punto di vista sottoscrivono con l'artista o fotografo di turno un contratto che prevede l'esclusivo utilizzo dell'immagine che poi dopo loro possono, concordando con l'artista o con il fotografo, in quante copie farne. Però in quel caso lì l'artista cosa dice? Io posso ottenere la mia opera prima, che è la mia, quella che posso vendere a quello che voglio. Però quando ti inserisci in un contesto del genere ti devi fidare e per cui dai l'esclusività e cedi anche il diritto d'immagine. In Italia cosa succede? Che quando tu parli di cessione di diritto d'immagine tutti quanti dicono eh no, io, 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 io.